Vendeva droga ai coetanei in centro a Piacenza, ma è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Piacenza Levante. Si tratta di un 19enne di origini sudamericane domiciliato in via Mazzini. In seguito a una segnalazione giunta nei giorni scorsi, i militari dell'arma hanno svolto servizi di osservazione e pedinamento di notti tossicodipendenti, anche con l'ausilio di personale in abiti civili, fino a quando non hanno individuato il pusher sudamericano e lo hanno fermato ieri sera davanti a casa. In tasca aveva 10 dosi di un grammo ciascuna di marijuana e una da 2 grammi, sempre della stessa sostanza. In casa sotto al letto aveva quasi 1,6 kg di marijuana suddivisi in due grandi buste di plastica sigillate. Nel comodino un bilancino di precisione, un rotolo di pellicola, sacchettini di plastica per il confezionamento di droga e 500 euro in banconote e provento di spaccio. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.